Beh ragazzi, bentornati sul canale, bentornati su Diploma, se non è un option, oggi riprendiamo la nostra avventura che sta andando bene, abbiamo avuto un inizio un po' così, però ci stiamo riprendendo, secondo me, alla grande, e la cosa mi fa molto piacere, ovviamente, a chi non farebbe piacere, giusto? Allora, io qua direi di liberare quest'area, così da costruire un bel muro qui difensivo, visto che arrivano sempre da qua, costruiamo qui un bel muro difensivo, sfruttiamo altre cave, in più possiamo anche costruire altre case. Allora, oddio sto morendo, ecco, mi dispiace non poter sfruttare di più, in realtà possiamo sfruttare molto di più quest'area, tipo, tu puoi andare a telemiglia che non ci interessi più, io farei così, costruiamo più case qua giù, perché no? Qua mettiamo anche un'altra fontanella, perfetto, quindi fa tempo liberiamo appunto l'area, diciamo così, ottimo, vediamo un po', qui c'è ancora roba da costruire, abbiamo costruito le torri difensive, anzi le torri d'osservazione, non difensive, mi preoccupo un po', ci hanno attaccato da due lati e basta, quindi ne mancano altri due all'appello, diciamo. Andiamo a liberare quell'area, qui teniamo anche d'occhio i magazzini, cose di questo tipo che si riempiono facilmente, fortunatamente anche se deve dire, abbiamo tante di quella pietra ragazzi, io devo cominciare a commerciare, vendiamo tutto, facciamoci un bel po' di dubloni, così da cominciare a ricercare roba interessante, e avere anche unità come i cavalieri, cose di questo tipo, unità che possono essere molto utili alla nostra causa. Ammazziamo l'ammazzabile, grazie, abbiamo poco ferro, ma in realtà neanche pochissimo, abbastanza, ne abbiamo abbastanza, ecco, potrebbe andare meglio, ma anche peggio. Qui è difeso tutto al massimo, perfetto, qui possiamo anche riparare, vai, vai piccolo dirigibile, porta con te il denaro quando torni. Qui abbiamo ucciso un bel po' di nemici, perfetto, perfetto, quindi qua un bel po' di cave si sono liberate, però vedo che abbiamo un po' di carenza nel legno o sbaglio, quindi l'idea è di costruire anche quattro famiglia da giù, un piccolo magazzino qua, mi sembra una buona scelta. Di qua tutto libero per ora, nel frattempo possiamo qui, qua siamo già al limite della mappa, questa mappa non è gigantesca. Ora voi facciamo così, in modo tale da costruire in quell'area, questo è già pieno, quel magazzino, quindi deve costruire in un altro. Ma qua abbiamo detto che ci espanderemo, quindi possiamo anche occupare un po' più di spazio con quei magazzini. Qui allora è difeso, qui ci sono delle truppe, oh eccolo che torna col nostro denaro, grandioso, grandioso. Possiamo ricercare qualcosa di interessante, io direi, con i primi dubloni, direi di ricercare regole di mercato, così da avere un cambio favorevole in termini di tassi. E così da poter investire di più, no? Con i soldi che abbiamo sì da subito. Voi qui andate con le altre truppe, grazie. Nel frattempo voi andate qui ad ammazzare, voi fate il giro, poi vi unite all'oro dopo. Allora, qui abbiamo finito la pietra qua giù, ottimo, cioè più o meno ottimo. Niente più pesce di qua, poi abbiamo i granai pieni e va bene. Qua possiamo arrivare a livello 3 del municipio, 500 di legna ci vuole, ok. Qui lavoriamo un po' sulla legna, distruggendo questi accampamenti, magari prendiamo i carretti così da raggiungere l'esos se necessario molto velocemente. Via, via, via. Molto bene. Molto bene, molto bene. Andiamo laggiù, veloci. 300, sì, non dovremmo metterci troppo. Allora, cerchiamo regole di mercato, come abbiamo detto, perfetto. Stiamo distruggendo gente nella foresta. Questa è un'altra bella foresta da poter sfruttare per la legna, ovviamente. Allora, voi tre si sboscate quell'area. Qua abbiamo ancora delle, le, le fa le le amerine originali? Le ho perse, non mi ricordo più. Ah no, erano queste forse. Boh, non mi ricordo, comunque. Non importa più di tanto. Qua non vediamo nulla. Sono abbastanza convinto che ci sono dei nemici forti. Soprattutto ci saranno delle catapulte. Quello ne sono abbastanza convinto. Quindi li preghiamo un attimino. Nel frattempo... Allora, per avere questo a livello 2 cosa ci vuole? Il municipio è al 3, quindi sì, io direi dai, per il municipio è al 3, così da... Ah, tra l'altro bisogna un attimo commerciare. Allora, commerciamo. Pietra e dubloni. Vendi tutto. A 300 di pietra, sì dai, bevo un sacco di pietra. Sfruttiamola per il denaro. Bene, qua abbiamo un bel esercito con i curatori, quindi riusciamo veramente a resistere senza problemi con curatori lancieri. Facciamo così. Qua costruiamo un'altra torre d'osservazione. La torre la costruiamo con voi. Vabbè, c'è il range bello ampio, quindi non dovrebbe essere un problema. Occhio al cavaliere, che fa un male cane ai nostri spadaccini più che altro. Ottimo. Ripieghiamo un secondo, per favore. Che qua non riesco a vedere, la cosa un po' mi preoccupa. Quindi devi fare anche una torre d'osservazione laggiù. Perfetto. Ci manca il cibo, ci manca il cibo. Ma ci manca veramente. Abbiamo un sacco di giorni a disposizione per sviluppare il nostro regno. Quindi niente fretta, a mio parere. Niente fretta. Io direi qui di costruire un'altra fattoria. Perché no? Il municipio livello 3. Oh, il municipio livello 3. Via. No, che pausa. No, torno al lavoro, assolutamente. Ok, no. Appena torno in dirigibile, comincerò a sviluppare il municipio livello 3. Perché sarà molto utile, appunto. Qui ripieghiamo. Nel frattempo ce ne stiamo buoni. E poi con la gilla degli ingegneri a livello 2, riusciremo anche a costruire balliste e trabucchi. Che sono cose assurde. L'ho già provato. E' veramente tanta roba. Allora, qui abbiamo finito la pietra di cui c'è da sfruttare queste due cave qui. Un po' di ferro laggiù. Ok, è arrivato il denaro. Ottimo. Vuoi ripiegate per favore. Tra poco dovremmo tornare ad avere 500 di legna per il nostro municipio. E poi avremo dei giorni a disposizione per recuperare le risorse per costruire eventuali difese. Hola, municipio livello 3, ragazzi. Prima volta sul canale che avremo il municipio livello 3. Ok, attenzione. L'emozione è forte. L'emozione è forte. Allora, ci metteranno un po' a costruirlo. Qui fa tempo i campi di grano. Fanno il loro lavoro per il cibo. Questa vogliamo fare qui? Più velocità di movimento del nostro dirigibile. Potrebbe tornare utile, visto che comincieremo a vendere tante risorse. Perché chiaramente con i dubloni possiamo reclutare cavalieri, tizi con i martelli giganti, i trabucchi, cose di questo tipo. Quindi sicuramente la nostra produzione punterà anche alla rimenta delle materie prime, no? Quindi, sì. Qua vedo già una macchina del sedio reale che non ci piace. Quindi quell'area attenderei prima di liberarla. Non vorrei subire troppe perdite inutilmente. Abbiamo un sacco di aree da esplorare. Tipo qua giù possiamo andare a distruggere quel piccolo accampamento. Madonna se ci stanno mettendo un'idea di Dio qui. Mio Dio. Stanno mettendo un sacco di tempo. Vamo l'assicuro. Io direi anche di fare così a sto punto. In modo tale da avere più abitanti, più costruttori a disposizione per il municipio. Allora, dove vogliamo espanderci? Il problema è che non so se ci attaccheranno da altri lati. Se ci attaccassero da ovest dovremmo costruire una muraia cinese qui davanti. La cosa non sarebbe neanche malvagia in realtà. Non sarebbe troppo malvagia. Io direi di sfruttare quest'altra cava. Sfruttiamone di più perché no. Però ribadisco come questa mancanza di legna un po' mi disturba. Quindi io direi anche di cominciare a raccogliere da qua giù. Quindi costruire un altro magazzino piccolo per adesso dovrebbe andare bene. Bene, qua liberiamo l'accampamento. Ah, ma qua vedete ci sono le macchine d'assedio. Vi aspetta delle balliste o la cavalleria per quelle macchine d'assedio. Così andrà colpo sicuro e non subire troppe perdite. Non stiamo neanche sfruttando la magia. Quello è bello. Chiaramente penso sia, diciamo, la modalità più difficile. Anche se mi aspettavo qualcosa di più dall'impero. Onestamente. Però va bene anche così. In tutto questo cosa vogliamo fare? Costruire altre case? Potremmo... Il range di questo? Ok, siamo ancora in range quindi va bene. Mmm... Mi farei un'altra casa lì. Un'altra casa qui. Un bel investimento per la popolazione. Anche se ne abbiamo 75 a disposizione. Ma non basta mai. Visto che puntiamo a reclutare molta più gente. Giusto? Con nuove macchine d'assedio. Cose di questo tipo. Qua... Mmm... Non possiamo migliorare il magazzino. Quindi ne costruirei un altro qui a questo punto. Anche se è un po' esposto. Però... Se ci attaccano. Comunque attaccano in quest'area. Anche se qua... Eh... Dovremmo costruire un altro muro. Forse costruire un muro... Come potremmo costruire questo muro difensivo? Forse da qui? Eh... Sì. Direi di costruirlo qui in modo tale da... Sì. Lo facciamo. Allora. Non abbiamo legna però. La legna veramente mi sta disturbando questa mancanza di legna. Ripetisco. Puntiamo a bustare un pochino la produzione. Questo è un range un po' troppo ampio. Vedete come vanno troppo in giro e poi non sanno bene. Si perdono un po' in... Uh... Guardate qua tutte... Eccoli qua tutti i faregnami che ci mancavano. Però soltanto distanti. Quindi secondo me ci conviene distruggerli. Liberare la popolazione. Anche se in realtà non ne abbiamo bisogno. Ma sono così distanti che onestamente... Penso sia la cosa giusta da fare. Tanto bisogna ancora aumentare la velocità dei costruttori. No. Dei lavoratori. Sì. Bisogna ancora aumentare la velocità. Molto molto male. E voi siete abbastanza vicini. Quindi andate laggiù senza problemi. Qua cosa potremmo fare? Liberiamo altri abitanti. Perfetto. Poi costruirei qualche altra faragnameria. Anche qua giù. Qualcuno a livello 2. Va bene. Voi fate così. Ottimo. Voi qua giù non avete niente da fare. Eh avrei potuto mandare lì. Peccato. Vabbè. Non importa. Abbiamo sfruttato un sacco di risorse. Come potete vedere. Qua metto miniera di livello 2. Perché sono esposte. Solo per quello. Dovremmo comunque riuscire a... A sfruttare. Anche il magazzino lì mi sembra troppo esposto. Quindi piuttosto ci impieghiamo di più. Ma andiamo a colpo sicuro. Ora finalmente qui possiamo costruire l'officina. Chiaramente l'efficienza di edifici di produzione del raggio. Abbiamo il magazzino e il granario livello 3. L'officina potrebbe tornare utile in quest'area qui. Con cave e falegnamerie. Sì secondo me potrebbe tornare molto utile. Molto molto utile. Allora 17. Priorità 17. Abbiamo un sacco di cose da costruire. Non abbiamo le case dei costruttori al massimo livello. Quindi tutto questo ci sta abbastanza rallentando. Vedete poi qui sono le torri massicce, le torri in pietra. Di livello 2. Queste sono robe... Tanta tanta roba ecco. Già hanno 16, 19. Allora io direi che possiamo distruggere qui queste torri. Se distruggo queste perdo le catapulte no. Quella scienza abbiamo rischiato. Ma per fortuna ci è andata bene. Oddio questo cancello è bellissimo. Però per adesso dubito possa tornare utile come cosa. Le torri piccole ci... Ha senso costruirle. Potrebbe essere interessante come... Come design. Fare così. Non so se ha senso. Ovviamente testiamo. Proprio per sport testiamo. Io farei così. Poi il muro davanti. Così dobbiamo mettere gli accelli. Proviamo a vedere se ha senso come design. Nel frattempo spostiamo le truppe. Allora... Sì. Dunque migliorerei le case dei costruttori assolutamente. Quelle di livello 1. Le miglioriamo tutte. A mio parere. Qui stiamo costruendo altre faregnamerie. Perfetto. A mio parere... Fattori di livello 2. Investiamo un po' di ferro. Ottimo. Possiamo reclutare qualcuno con il... No. Non possiamo ancora reclutare nulla. Perché abbiamo bisogno della casella ma a livello 3. No. Possiamo potenziarla. Senza problemi proprio. Perfetto. Ah. Abbiamo bisogno di voi. Cacchio. Si può annullare? Eh. Perdiamo un dublue. Ah no. Non perdiamo nulla tecnicamente. Bene. Miglioriamo quello assolutamente. Qui abbiamo altri pescherici che non servono più. Va bene. Avete fatto il vostro lavoro. Sicuramente. Qua costruirei anche un altro... Come si chiama? Un altro cimitero con dei becchini. Per quest'area qua giù. Mi sembra buono. Bene. Abbiamo... Oh. Ora vedo già un po' più di legno. La cosa mi rallegra. Qui cosa potremmo fare? Vediamo un pochino. Velocità di costruzione. Costruzione di preparazione. Direi di sì. Visto che stiamo... Ci stiamo espandendo parecchio. E ci vuole... Bisogna costruire molto più velocemente. Qui aumentiamo anche la costruzione. Il livello di quel magazzino. Qui l'efficienza sarà molto maggiore. Quindi idri anche di potenziale. Fare andiamo qua. Visto che abbiamo anche l'officina. L'officina che possiamo... Allora. Qui potremmo aumentare il livello delle fontali cittadine. E di conseguenza... Avere più gente a disposizione. Però per adesso non credo la proporzione sia il nostro bisogno primario. Giusto? Abbiamo 140 cittadini. Non fa niente. Quindi... Tanto vale sfruttare altro. La ricerca potremmo aumentarla con la costruzione dell'università. Questo qua... Questo edificio ragazzi non l'avete mai visto neanche voi. Molto importante. Non abbiamo bisogno di malattie. Di ospedali. Quindi direi di... Cosa potremmo fare? Non c'è molto da fare. Bisogna concentrarsi un attimo sulla produzione. Mi direi di fare lo livello 2. Potrebbero tornare utili. Ma non sono estremamente necessarie. Più che altro non ci sono aree così sicure da poter... Forse quella mi dira possiamo livellarla. Perché no? Allora. Tutto questo... Ok. Voi state costruendo? Cioè dove sono andati loro? Se... Se questo è il raggio d'azione. Ah. Forse stanno costruendo quel magazzino. Probabile. Ok. Qui anche si sta espandendo tutto. Potremmo costruire anche qui un... Un'officina. Dovete magari qui nascosta. Più o meno. Sì. Così magari si attaccano. Comunque non la beccano. Qui stiamo costruendo tutte le mura. Perfetto. Dobbiamo costruire... Dobbiamo reclutare truppe però. Perché... Già hanno 18 quasi. Arriveranno altri... Altri nemici. Quindi non abbiamo bisogno di più balestrieri. I balestrieri sono un'unità che ci manca maggior... Per... Per potentemente proprio. Tutto questo cibo perché è sparito? Mi ho perso un sacco di cibo. Non riesco a capire perché. Di cosa un po' mi disturba. Infatti avremo un problema... Di affamati. Con questa nuova giornata che arriva. Infatti. Quelle fattorie dovrebbero aiutare. Allora. 119 affamati. Mamma mia. Questa è stata una brutta botta. Non capisco bene perché è sparito quel cibo. Sono onesto. Fatto sta che bisogna reclutare il balestrieri a gogo. E li reclutiamo subito all'istante. Arriveranno da qui. Quindi nuova area da difendere. Ovviamente adesso che non siamo proprio... Diciamo pronti al 100%. C'è la nuova area da difendere. E vabbè. La difendiamo in qualche modo. Allora. Io voglio pensare. Facciamo così. Per non andare addosso a sta gente qui a tirarli. Ci spostiamo di qua per adesso. Qui miglioriamo. Qua stiamo costruendo le fattorie. Via. Perfetto. Lo so di dubloni. Allora. Andiamo a commerciare un pochino. L'idea è di fare così. Vendi tutto. Commercia. Via. Quindi usiamo un po' di legna. Per avere del denaro. Ok. Qui qua bisogna difendere. Praticamente. Un'area produttiva importante. Questo lo andiamo a difendere qui praticamente. Allora. Io farei. A questo punto così. Un cancello può stornare utile. Abbiamo quelle. Un po' di balliste. Tornerà anche il coso. Però la velocità di reclutamento purtroppo non è così alta. Allora. Qui abbiamo. Aria colpita. Velocità d'attacco della ballista. Velocità di addestramento del trabocco. Quello può essere utile. Quindi lo facciamo. Vediamo le truppe qua giù. A favore. Grazie. Abbiamo un bel po' di balestrieri in arrivo. 27 balestrieri già. Mamma mia. Reclutamento assurdo con due caserme. Molto molto bene. Ecco qua. E torna il nostro dirigibile. Velocità supersonica. Allora. Siccome abbiamo un sacco necessità di truppe qua giù. Sposterei anche quelle catapulte. Io raga c'è da costruire anche in velocità. A mio parere. Quindi prendiamo in prestito un po' di costruttori in giro per la mappa. Ok. Un minuto e mezzo. Dovremmo riuscire a reclutare abbastanza truppe. La velocità della ricerca sarà aumentata anche grazie a quello. Ottimo. Mi direi anche di costruire appunto altre fattorie. Uno a livello due. Ce la possiamo permettere. Bene. Ottimo. Trabucchi. Sì, grazie. Bene. Cibo. Non abbiamo ancora abbastanza cibo. Quindi non possiamo reclutare altro. Mettiamo il granaio che non si sa mai. Gli affamati mi sa che muoiono se poi non riusciamo a, come dire, a soddisfare il bisogno di cibo. Mettiamo lì la catapulta che sicuramente ci vengono addosso. Però bisogna fare questo sacrificio. Prepararci. Abbiamo le truppe adesso per sostenere i tizi che ci arrivano da qui. Non riusciremmo ad avere abbastanza. Porco Giuda. Perché abbiamo anche tutto questo cibo? Abbiamo un sacco di fattorie. Cioè, io non lo so. Eh, people are starving. Eh, morite le fame. Vi devo dire. Eh, è vero che abbiamo un sacco di gente a non fare nulla. Quindi in realtà non è che ci servano più di tanto. Allora, mettiamo qui le truppe fuori. Con voi. Allora arrivano. Quindi bisogna prepararsi fuori. Eccoli là. Purtroppo non abbiamo abbastanza per... Mettiamo qui il balessere di più... Mettiamo... Il più possibile ne mettiamo sopra le torri. Non riesco a... No, vuoi via. Dovrisco a mettere voi piuttosto. Abbiamo già dei buoi di fame. Eh, vabbè. Pace. Bucchi, via. Qualsiasi arma d'asserio che abbiamo a disposizione, per favore, spostiamola. Grazie. Abbiamo perso le balliste, perché sono morte di fame. Interessante. Perdiamo un po' di risorse lì. Sto già bestemmiando male, ma non importa. Non possiamo farci molto, purtroppo. Ok, spostiamoci di qua. Abbiamo dei lancieri lì che stanno sacrificando, ma stanno rallentando la manzata. Abbiamo perso un sacco di produzione qui, però riusciremo sicuramente a recuperare. Cento passavuomini morti? Eh, che qua la morte stiamo morendo di fame, per quello abbiamo tutti questi morti. Questo è un brutto colpo, devo dire. Brutto colpo, e però, vabbè, in qualche modo ci riusciamo a recuperare. Io mi entriamo la velocità dei becchini a questo punto, perché abbiamo un bel po' di morti in giro. Almeno la questione del cibo adesso si è stabilizzata. Non nel modo che preferivo, però si è stabilizzata. Ok. Bene. Poi sono morti, ok. Poi ho delle balliste da sopra, per favore. Le balliste le shottiamo, praticamente, in tecato. Però chiaramente ormai non sono così utili. Purtroppo quella calestia ci ha fregato, abbiamo perso un sacco proprio per quello. Passiamo una giornata senza fare nulla, anche se qua adesso avremo nuovi abitanti. Ottimo. Quindi qua ricostruiamo, ricostruibile. Molto bene. Allora, facciamo un bel magazzino livello 3. Un'officina. E passa tutto. Ok, perfetto. Qua selezioniamo le varie cose. Le mandiamo di là. Allora, voi qua mandateci su pure. Tanto in futuro sicuramente arriveranno altri nemici da qui. Quindi lo sappiamo e ci prepariamo per ciò. Adesso lo stiamo ricercando. Ottimo. Bisogna... C'è bisogno di ferro, giusto? Praticamente il ferro che ci manca. Bisogno di ferro. Abbiamo bisogno di commerciare. Mandiamo via voi con un po' di pietra. Vedi tutto. Via. Ciao. Allora, sfruttiamo queste truppe per liberare quest'area. Anche se... Mmm. Mi farei così. Facciamo così. Cosa ci mancano? I balestrieri? Abbiamo perso un bel po' di balestrieri a casa della carestia. Quindi li reclutiamo subito, all'istante. Qui possiamo migliorare un po' di fattorie. Non appena torna il denaro possiamo farlo sicuramente. Ok, va bene. Vedete qua il cibo come sta entrando adesso. Ottimo. Avete dovuto mettere forse un granaio al centro. Non è proprio in modo migliore di costruire questo. Bisogna essere un po' più intelligente al riguardo. Però vabbè. Diciamo che c'è di peggio nella vita, ecco. Allora, voi state qui per adesso. Qui voi state costruendo. Perfetto. Mmm. Mmm. Stavo pensando un po' cosa fare. Niente. Non facciamo niente per adesso. Abbiamo qui un trabucco che spostiamo di qua. Perché so che difenderemo qualcun altro laggiù prima o poi. Qui stiamo costruendo le varie torri. Io farei così. Continuiamo così da mettere almeno lì il trabucco. E' quello l'obiettivo. Possiamo calcolare la torre qua giù in questo modo. E ci fermiamo qui con questo episodio ragazzi. Una bella batosta. Ma siamo riusciti a difendere fortunatamente. Ora, se riusciamo a stabilizzare meglio l'economia. A bilanciarla. A reclutare in modo appropriato le truppe. Riusciremo sicuramente a sopravvivere nei prossimi episodi. Ne fate voi un saluto. E ci vediamo prossimamente. Ciao. 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 Grazie a tutti.